Salve a tutti, qui Giorginio96 che vi parla Tutto l'anno a prendere i stessi gol E' un anno intero che prendiamo sempre gli stessi gol Sempre gli stessi gol Sempre Tutto è ovviamente La posizione è importante per i playoff Noi nel campionato abbiamo fatto errori Che ci sono costati cari ora i playoff E questo è da constatare Perché un conto è giocarsela al settimo posto Un conto è giocarsela al terzo posto Che loro siano più forti Dobbiamo ammettere che loro sono più forti Tatticamente non ci hanno fatto giocare Dobbiamo dirlo Non ci hanno fatto giocare L'Avellino non ci hanno fatto giocare Può essere pure anche che noi ne abbiamo risentito Perché abbiamo fatto Abbiamo fatto i playoff molto prima di loro Perché ovviamente chi è più bassa in classifica inizia prima Loro già Alle fasi nazionali Hanno iniziato direttamente alle fasi nazionali Noi abbiamo dovuto fare anche L'eliminazione diretta Io onestamente Filippi Lo riconfermerei per quello che ha fatto vedere Nonostante tutto che siamo usciti Siamo usciti Io lo riconfermerei Un giocatore su tutti Uno dei giocatori su tutti che riconfermerei è Lancini Lancini è un giocatore che è in scadenza Ed è veramente un giocatore forte L'ha fatto vedere nei playoff Siamo stati l'unica imbattuta La difesa imbattuta abbiamo avuto Io comunque lo riconfermerei tutta la vita Lancini Come De Rose Però oggi abbiamo visto che non ci hanno fatto giocare Non ci hanno dato modo di giocare Perché Tatticamente erano messi bene Ovviamente all'andata Si sono comportati comunque Non benissimo Però noi l'abbiamo portata a casa la vittoria A ritorno Hanno avuto aggressività Hanno giocato in modo aggressivo In modo Proprio con Molta aggressività Come si usa a fare in queste categorie E l'hanno portata a casa Cioè i playoff Se non sei aggressivo Niente Non hai dove andare Non hai dove andare Comunque Ci vediamo Cioè nel senso Ripartiamo Ricominciamo da capo E vediamo di farcela l'anno prossimo Perché Tra l'altro C'è il Messina Ci sarà il Messina Una grande squadra Io me lo auguro ora L'Avellino Che possa arrivare in Serie B Perché è una squadra ostica Una squadra veramente Cioè Noi in confronto Non Non può Cioè era un'impresa Onestamente Fare Questa Questa Superare Questo Questo ritorno Era un'impresa Non abbiamo avuto Questa Questa cosa Perché Le nostre Le nostre Perché le abbiamo Abbiamo sempre avute In tutto l'anno Le conosciamo un po' Benissimo tutti Contropiede Lasciamo gli spazi liberi A centrocampo Lasciamo spazi In contropiede E ci bucano Cioè tutto l'anno Così è stato Quindi Non Non ci Non ci scandalizziamo Non ci stupiamo Così è stato Cioè Siamo dispiaciuti Ovviamente A Serie B A essere sempre A Serie B Però L'abbiamo a fare Dobbiamo Comunque Riprovarci l'anno prossimo L'abbiamo a tifare Però sempre Perché La maglia rosa È un'altra cosa Quindi È meglio Cioè No È meglio Comunque Oltre la categoria Non ci dobbiamo rendere Anche l'anno prossimo Ci dobbiamo riprovare E chissà Boh 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 Comunque Sempre gli stessi gol Subiamo sempre Gli stessi gol Sempre Da tutto l'anno Basta Cioè Vediamo Un po' Quello che I passaggetti In difesa È una cosa Che non sopporto Sempre sti passaggetti In difesa Oggi Oggi giocavamo Timidi Timidi Giocavamo Con timore Non giocavamo Con scioltezza Con Eravamo timore Di giocare E vabbè Ci proviamo L'anno prossimo Condividete Iscrivetevi al canale Sempre Forza Palermo In qualsiasi categoria Oggi 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 Oggi